eccoci di nuovo qua, siamo sempre Siga Brotelle ciao a tutti pronti a continuare con il nostro torneo in cui non abbiamo vinto a mezzo e il peggio è che non abbiamo neanche mai fatto il peggio è che abbiamo subito i 6 come potete vedere davanti a voi Manchester United in sottoimpressione sempre la classifica con i punti, il nostro bar gol fatti, gol subiti, vittorio, pareggi, sconfitti e bla 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 il nostro bari, vabbè bene, possiamo noi United in posta l'alba, il contatto di gioco sempre esperto sempre esperto, è già tutto a posto direi che ne ripetiamo pure adesso e possiamo iniziare molto bene, vai allora hanno diventato tipo Van Persie, Carrick, Rousio cominciamo Amber Moscardelli c'è per sbloccare la partita per farci vincere e andiamo a segnare un gol si spinge davanti nooo pensavo che ne tommi mutia, sovrapposizione Mike, guarda il look che non ne fa giù figlio della cacca poteva lasciarci continuare però ma si è fiscato perché avevo paio il suo palla ah bene non fa gol grande c'è Pitelli c'è Pitelli attenzione lo vedi ma lascia continuo bene 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 non è fuori non è fuori cross out si si e steppareva se la prendevamo noi di testa molto bene chi è Romizzi mamma mia che roba aspettami e allora la metto in mezzo non è sempre loro ma poi schiacci non la passa sono lente fuori gioco no 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 non hanno segnato ragazzi però la rischiamo adesso la rischiamo no boh ti e te pareva se non mi è ancora lì e ti pare che riusciamo a perire c'è non mi ha recuperato tutto quel sto buggatissimo fifa di merda ma ancora è il calcio di rigore aspetta aspetta è il calcio di rigore bisogna calciare i rigori e bisogna segnare nooo oddio oh oh no 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 guardalo t'ho visto vai però vai 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 e non c'è nessuno mezzo perché ti son venuto dietro sono un coglione ti sei venuto dietro uuuu ma dalle mezzo passa no no grede aaaa donna ruma donna ruma hahaha nooo si palla in sicurezza ragazzi è finita è finita io spazio in su arbitro fisico 1-0 1-0 ce l'abbiamo fatta siamo ancora in corsa galano su 2 al 78 bene è finita così mi raccomando ragazzi pollicioni in su mi piace per il nostro Bari e il nostro Galano sono 2 pollicioni in su uno per il Bari e uno per il rigore di Galano e per il primo gol del Bari ciao ragazzi buona media 6 gol subiti e uno fatto non ho fatto però i nostri primi 3 punti conquistati ci vediamo al prossimo video ciao ciao